Siamo contentissimi di averla vinta questa medaglia perché ovviamente è sempre più bello vincere là in casa, in casa della Spagna, e non ci sono parole. È stata una partita difficilissima, eravamo partiti male, invece come al solito abbiamo dimostrato grande forza. Sì, come al solito anche io, abbiamo fatto il primo tempo molto bene e poi il secondo tempo male, invece oggi abbiamo fatto il primo tempo male, il secondo tempo è stato combattuto fino alla fine e poi agli shootout ovviamente è stato sempre una lotta, cioè ce la sono meritata in piena questa medaglia. Avevano vinto loro gli shootout qualche giorno fa, ci siamo presi la rivincita e ci siamo presi la rivincita che serviva di più perché abbiamo vinto noi. Sì, infatti, anche perché volevano questa vittoria a tutti i costi e ci siamo presi la rivincita e è ancora più bella vincere così. Adesso ho potuto vincere una medaglia. Abbiamo vinto una medaglia di bronzo, solo questo, non è parola. Oggi abbiamo giocato, non va bene, ha fatto molti errori, ma ha giocato con cuore. Questo è molto, molto importante per il futuro. Perché questa squadra, tutte giocatrici, molto giovane, se lavoriamo molto nel futuro, sicuro facciamo un meglio risultato al prossimo anno, quasi al futuro. Complimenti miei ragazzi. Grazie.